Sono, come potete ben capire, delle riflessioni colte che bisogna pur fare. Io invidio molto un mio amico, un professore di liceo, che insegna in un liceo della capitale nel quale vengono da varie parti, dal centro, dalla periferia, quindi lui assiste al cambiamento del linguaggio, a come cambia il gergo, come si modifica, e lui ha chiesto un giorno ai suoi allievi di raccontare, ognuno raccontasse una storia, tratta dal mito, dalla mitologia, oppure qualsiasi, purché alla fine raccontassero, dicessero, la morale che se ne trae da questa storia. S'alza uno, un voto carino, davide e Golia, benissimo, la so bene, davide e Golia fanno a duello, ma Davide è un ragazzo, un piccolino, normale, invece Golia è un gigante invincibile, arrumato fino ai denti, ma Davide con una fiondata lo uccide. Morale, non sempre la forza brutta, prevale sull'astuzia e sull'intelligenza. Meglio, ammalta, non dimentico, non dimentico, c'è nessun altro che vuole sarci a un coatto. Tu che vuoi raccontare? Il cavaliere bianco e il cavaliere negro. Non lo so, aso i aso. Il cavaliere bianco e il cavaliere nero fanno a duello, il cavaliere nero ti ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco c'aveva tre figli. Sti tre figli sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli avevano tre figli per uno. Tutte e nove ti sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli avevano tre figli per uno. Tutte e ventisette ti sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e ventisette. Ma sti ventisette figli avevano tre figli per uno. C'è basta, dimmi la morale, e il cavaliere nero non gli è che dica carcazza!